Albano Carrisi al fianco di Nichi Vendola. L'endorsement che non ti aspetti può spostare le equilibri nella corsa alle regionali della Puglia. Il cantante originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, scende in campo con un videomessaggio in cui sostiene Dario Stefano, il candidato di Sinistra, Ecologia e Libertà, alle prossime elezioni. Una presa di posizione che ha spiazzato tutti in Puglia. Icona del macismo e della cultura tradizionalista, convinto ammiratore di Putin in politica estera, Albano è sempre stato agli antipodi del mondo della Sinistra. Ma già nel 2007 aveva dichiarato di votare in base alle persone e non ai partiti, e anche in questo caso ha pesato appunto il rapporto personale. I due si erano conosciuti quando Stefano era assessore all'agricoltura della Giunta Vendola, e aveva conquistato Albano, che di secondo mestiere fa il produttore di vini. Dario è una persona straordinaria, e io a chi ha qualità straordinaria lo sostengo, spiega nel suo video pubblicato su YouTube. Da luglio scorso Stefano è ufficialmente candidato alle primarie per diventare il candidato del centro-sinistra alle regionali pugliesi. Stando agli ultimi sondaggi, il favorito sembrerebbe Michele Emiliano, ex sindaco di Bari, in vantaggio su Guglielmo Minervini, altro esponente del PD, e proprio su Stefano. Ma chissà che con l'aiuto di Albano il delfino di Nichi Vendola non possa sovvertire i pronostici. È una persona straordinaria, e lo dì.